Un caro saluto da Mario Giuliaci. Il tempo ha previsto per giovedì 21 parso. Una debole perturbazione atlantica si avvicina all'Italia vincendo la resistenza dell'anticiclone africano. Al mattino bel tempo, al pomeriggio isolati rovesci su Trentino, Alto Adige, Alpi orientali. Nella sera ancora qualche rovescio su Toscana, Umbria e Marcoli. Temperature in rialzo con molti valori massimi al di sopra dei 20 gradi nelle zone interne della penisola.